E alle nostre spalle l'hub vaccinale di Bazzano è stato scelto questo punto per effettuare le somministrazioni di vaccino agli utenti. In questo Open Day si è scelto Bazzano per concentrare qui le forze, mentre nell'altro hub a San Vittorino proseguono le vaccinazioni tradizionali per chi si era prenotato. Si sta svolgendo tutto regolarmente, la gente ha voglia di vaccinarsi e le prenotazioni sono state diverse. Secondo Open Day in provincia dell'Aquila per le vaccinazioni a Juver 60 senza patologie con AstraZeneca e Johnson & Johnson, utilizzato sull'Aquila per l'Open Day Lab di Bazzano, dove ci sono state più di 300 prenotazioni che sono aperte anche oggi su domani, mentre il centro di San Vittorino è stato usato per gli 800 prenotati normalmente. Le prenotazioni ai numeri messi a disposizione dai comuni sono state circa 900 in provincia. Nella giornata di ieri la ASL conta di arrivare tra oggi e domani a fare 2.600-2.700 vaccini sul territorio, replicando il successo, anzi doppiandolo quasi della prima giornata organizzata, con quasi 1.800 vaccini fatti. Il vaccino intanto arriva pure in moto, grazie ad un servizio che consente di fare le operazioni in maniera molto più veloce, con un trasporto speciale su due ruote. E questa lottica è stata una scommessa vincente, abbiamo voluto replicare questa ottima iniziativa e andiamo ad operare sia nella giornata odierna sia in quella di domani. Abbiamo avuto delle adesioni notevoli e siamo contenti di questo perché questo dimostra che sta finalmente passando la convinzione che il vaccino AstraZeneca è un vaccino molto buono ed è un vaccino efficace come gli altri. La giornata di oggi all'Aquila è stata caratterizzata anche per l'undicesimo screening dedicato alla popolazione scolastica dalle 9 alle 18 con quattro postazioni, Ipiacer, Muspo del Cotugno, Palestra del Lucio Scientifico, ITIS, ma solo fino alle 14 in questo caso. Negli screening scolastici precedenti sono stati effettuati circa 10.000 test.